Passa la legge sul parco Sirente-Velino in Consiglio regionale. Anche il giorno dopo le reazioni sono tante. All'indomani dell'approvazione il vicepresidente dell'Aggiunta Emanuele Imprudente, assessore con delega ai parchi, a spiegare la nuova disciplina e la revisione dei confini assieme ad Iginio Cuchiarelli, commissario del parco. Per Imprudente la legge è importante per una crescita, promozione e sviluppo del parco, partendo dal presupposto che la tutela e la conservazione sono valori fondanti, ma era il momento di fare il salto di qualità. Una nuova governance per ridurre costi e soltanto 6.000 ettari tagliati specifica e non di particolare pregio, con i sindaci che saranno protagonisti. Ci sarà ovviamente la governance del parco, ma ci saranno l'istituto zooprofilattico, l'università, quindi elementi scientifici, rappresentanti dell'associazione agricola, dell'associazione del turismo e ovviamente rappresentanti dell'associazione ambientalista. Un insieme dove sarà luogo di confronto e dove sarà luogo di costruire quella che è l'amore che devono avere i cittadini verso il parco, che fino ad oggi non c'è stato. È stato frutto di un confronto forte, dinamico, che parte da tanti anni. Io l'ho ripreso due anni fa, poco dopo il mio insediamento, partendo innanzitutto con la comunità dei sindaci, i quali hanno fatto anche loro la proposta base. Poi c'è stato l'ascolto formale nelle varie commissioni e informale nelle vari momenti di confronto con tutte le associazioni. Ovviamente tante cose le abbiamo messe all'interno, alcune cose no. Non è che tutte le associazioni ambientaliste sono contro questo tipo di legge, soprattutto sulla parte della perimetrazione. C'è una parte che ritiene che non va bene, che sia stato fatto un lavoro erroneo. L'opposizione aveva presentato oltre 10.000 emendamenti ed anche su questo c'è stata polemica, con le accuse alla maggioranza di aver azzerato gli emendamenti con la cosiddetta ghigliottina. Imprudente però rimanda tutto al mittente, solo strumentalizzazioni. Si è astenuto il consigliere Americo Di Benedetto e lo ha spiegato. Il progetto riguarda un territorio dove lui è stato sindaco per 11 anni. Prima di procedere con qualsivoglia modifica, occorre per lui che vi sia una valutazione tecnica scientifica che prescinda dagli umori della classe politica. Abruzzo meno verde per molte associazioni. Tantissime le reazioni, anche quella del WWF che parla di scelta vergognosa. Giorgio Fedele dei Pentastellati è uno dei più agguerriti. Questa è la sua reazione dopo l'approvazione. La conferenza stampa di oggi del vicepresidente Emanuele Imprudente sul parco non fa altro che confermare quanto ho denunciato da un anno a questa parte. È una legge sciaturata che danneggerà tutto il territorio regionale. Una mannaia che il centrodestra ha voluto abbattere sul parco Silente Velino eliminando 10.000 ettari di biodiversità e di pregio ambientale. Non c'è visione del territorio, non c'è visione del rilancio dell'ente parco. Soprattutto non c'è la volontà di metterlo nelle condizioni economiche di poter operare. Soprattutto non c'è visione del territorio regionale.